Da Villa Bruno qui a San Giorgio benvenuti all'ottava tappa di Miss Vesuvio 2020. Grazie a tutti. Senti questo brivido che sale dentro di me. Incredibile siamo giunti all'ottava tappa di questa edizione Villa Bruno a San Giorgio a Cremano e l'ottava tappa e questa magnifica struttura che ospitano l'ottava tappa del tour 2020 di Miss Vesuvio. E grazie anche a Pasquale Iannicelli. Chi è Pasquale Iannicelli? Ve lo dico tra un attimo. Il tempo di girare il foglio. Armonia e bellezza parrucchieri a San Giorgio a Cremano per aver curato il look delle nostre Miss che vedrete sfilare per questa ottava tappa. Allora avremo una sola fascia Miss Vesuvio San Giorgio a Cremano Villa Bruno. La Miss Vesuvio accederà direttamente alla finalissima del mese di novembre. Le altre invece potranno concorrere ancora per una vittoria di tappa e sono di diritto in prefinale. Ringraziamo il nostro official partner ovvero Jocelyn e i rivenditori Jocelyn che hanno partecipato al tour 2020. Offside Napoli e Gatto Matto a Torre del Greco. Andiamo a conoscere la giuria. Anna Maione patrona di Miss Vesuvio. Bravi. Eleonora Foix la nostra coreografa. Sabrina D'Amore che conduce insieme a me le tappe di Miss Vesuvio. Pasquale Iannicelli armonia e bellezza parrucchieri a San Giorgio a Cremano e Gianluca in prota. E' arrivato il momento di presentare la vincitrice del casting di Giuliano ovvero Maria Bosco. Bello applauso per Maria Bosco la vincitrice della scorsa tappa in Giuliano in Campania. Pronti con dress up San Giorgio a Cremano. Sfilano Sara Esposito e Maria Bosco vincitrice della tappa di Giuliano. Sfilano Sara Esposito e Maria Bosco vincitrice della tappa di Giuliano. Io vi faccio vedere per un attimo Poi mi metterò qui dietro Bello tranquillo Perché dovete conoscere le miss in gara Questa sera Partiamo da Ilenia Paolillo La seconda miss in gara E' Lucia Buononato La terza miss in gara Invece è Tania Ferioli La prossima miss in gara invece Vittoria Paolillo Ancora una miss in gara Federica Colucci La prossima miss invece Si chiama Tonia Casoria Ultima miss in gara Ma non per importanza Miriam Nesi Benissimo Abbiamo conosciuto le miss in gara Per questa tappa Adesso dobbiamo vedere Per sfilare Martina Boccia Alessia Sorrentino E Giulia Garofalo Per Vico Original Lady A Torre del Greco 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 Pasticceria mensile, delizia i vostri palati dal 1994. Arredamenti Madonna a Portici. Progettazione, arredamento, montaggio e assistenza post vendita. 50 anni di esperienza nel settore dell'arredamento al servizio della clientela. Il gusto delle tradizioni made in costa a San Giorgio a Cremano. Gastronomia napoletana, piatti tipici, cremeria, eccellenze campane. Per la sicurezza del tuo veicolo rivolgiti a Dicico Pneumatici a San Giorgio a Cremano. Dicico Pneumatici e Super Service, rete ufficiale di DR e Dunlop. Inoltre per te una polizza per danni accidentali e pneumatici con soccorso in tutta Italia. Dicico Pneumatici è anche convenzionato con le migliori società di autonoleggio. Moselle Lounge Bar a Cercola e caffetteria, aperitif e drinks, pasticceria, eventi e catering. Evoteca Polenatrocchia. Infissi in alluminio a taglio termico, legno alluminio, PVC e legno lamellare dei migliori marchi italiani ed europei. Finestre, porte e sistemi blindati. Vieni a trovarci nello showroom di Via Garibaldi a Polenatrocchia. Fatta una pizza Capumarolo Angop da Strapizzami con i suoi impasti a lunga levitazione e vedrai che il mondo poi ti sorriderà. Ginnastica Fortitudo a Torre del Greco. Corsi di ginnastica ritmica dai tre anni. Coreografie, saggi e competizioni. Corsi base, preagonistica ed agonistica con le istruttrici con qualifica FGI, Federazione Ginnastica Italiana, Barbara e Tiziana Guardo. Per il prossimo momento, ovvero Offside Napoli, articoli sportivi delle migliori marche, sfire l'anno. Sara Esposito, Maria Bosco, Antonia Di Guida e Luisa Baiano e Valentina Cozzolino. Vediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Le nostre modelle per Offside Napoli. Vediamo sfilare singolarmente Martina Boccia, Sara Esposito, Alessia Sorrentino, Antonia Di Guida, Maria Bosco, Giulia Garofalo, Valentina Cozzolino, Luisa Baiano con gioielli Giavida. Vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti